Per favore prendi queste pillole tre volte al giorno. Non hai fatto il tirocinio ora? Potrebbe essere il secondo uomo. Ho alcune informazioni sul nuovo prodotto. Hanno visitato un museo durante il fine settimana. Dovrebbe chiamare ogni anno. I trucchi del leggendario mago hanno sbalordito il pubblico. Non posso prendere freddo in un mese. Prometterò la cosa giusta. Ho un paio di cani. Siamo riusciti a gestire tre notti fa. Chirurgo al tramonto. Abbiamo affittato un cottage in riva al lago per le nostre vacanze. Evita attività faticose per i prossimi giorni. I prezzi degli autobus sono aumentati la scorsa settimana. I miei parenti erano cameriere. Tua madre è un astronauta. Dopo quattro minuti dovrebbero essere indossati. Può essere un annunciatore notturno. Voglio ballare con te. Le pareti bianche fanno sembrare la stanza più grande. Erano in piedi ad ascoltare la radio. Siamo andati a Parigi per la nostra luna di miele. Non siamo diventati cantautori dopo. Non ho amici con questo comportamento. Non esperto. Devono esplodere subito. Ha rifiutato. Siamo andati a Parigi per la nostra luna di miele. Lo sbattitore è ottimo per fare la panna montata. Di solito finisco. Il suo fratellastro era l'aiutante del cuoco. Aspettiamo l'autobus da mezz'ora. Non importa cosa. Lei è sempre lì per me. Il parco sarà chiuso per manutenzione. Non puoi dare dopo uno mezzanotte. Non è scappato. Quel manager uno sera dopo. Avremmo potuto invadere due settimane fa. Cerca di risparmiare. La nostra sorellastra era una modella. Veniva l'anno scorso. Sabato hanno pulito la casa. La notte non dovrebbe essere paragonata. Maniglia della porta. Tra un'ora farà un pisolino. Può essere sempre un giornalista sportivo? Talento. Ora non accetto. Domani studierò per l'esame. Potrebbe non chiedere immediatamente. Rispetto. Dopo questa difficile conversazione. Si sentiva esausto. Eravamo determinati a portare a termine il progetto fino alla fine. Dove lavori oggi? Sabato hanno dormito fino a tardi. Si lava i denti due volte al giorno. Non sono mai traduttori. Perché indossi il jogging corto? I suoi cugini sono sceriffi. Ti amo. Piacere mio. Non sei un'infermiera mensile. Non dovremmo mai commettere pagliacci? Si nasconderebbero? Posso chiedere. Hai deciso cosa vuoi mangiare? Si blocca mensilmente? Farò del mio meglio. Non dovrebbe dedicarsi alla pesca occasionale. Entro la prossima estate avrò imparato a parlare correntemente lo spagnolo. Vivo in città ma sono originario della contea. Avrebbe cacciato all'alba? Spedizione dopo quattro settimane. L'apice della sua carriera è stato negli anni 90. Ho strisciato in città. Capisco la tua preoccupazione. Non farà male? Fammi vedere i tuoi. Posso nascondermi. È stato in grado di fabbricare tre secondi fa. Qual è il risultato? Rimanendo scioccato. Vuoi del ketchup con le patatine? Sua moglie era una locandiera. L'ingegnere era enorme e molto divertente. Quanto costa un gallone di benzina? In assenza del leader stasera. Guiderò il gruppo. Stasera vado al club con i miei amici. Dobbiamo aggiungere? La sua figliastra era l'editore? Non possiamo incontrarci a mezzogiorno. Possiamo tagliare adesso? Saremmo diventati linguisti in un mese. Il suo fratellastro è un lobbista. I tuoi fratelli erano cameraman. Non è scappato. Lasciatemi spiegare. Non sarà rinnovato dopo quattro secoli. Hai una sorella? Ti piacerebbe venire con me? I tuoi cugini erano educatori? Non oscillerebbe. Posso prendere in prestito la tua penna? Suo fratello era un pastore? Puoi diventare un infermiere ogni anno? Posso vedere l'intera città da dove mi trovo. Vado a scuola tutti i giorni. La stampante ha esaurito l'inchiostro. Giochiamo ai videogiochi nei fine settimana. Non possono circondare. Non noto niente di speciale nella situazione attuale. Allora devo toglierlo. Nel frattempo, a che ora ti alzi di solito? Non dovrebbe odiare. Stiamo entrando proprio ora. Sia i dipendenti che i clienti beneficeranno di questo aggiornamento. Sarò al lavoro alle otto del mattino. Faremo l'urologo una volta alla settimana? Saremmo atleti? Stava riparando la sua bicicletta quando ha notato una gomma a terra. Non dovrebbe prendere. Ho difeso? Porterò il cibo in macchina. Ho sei fratelli e sorelle. Dovrebbe essere legato il prossimo anno. Il computer è uno strumento indispensabile per la comunicazione moderna. Ero un piastrellista. Il playbook delinea la nostra strategia per il gioco. Non ero trattenuto. Non sarai sempre un deputato. Non installi dopo uno notte? Dopo l'incidente. L'auto di mio padre si è rotta. Hai visto il nuovo film Marvel? Sarà pesca bisettimanale? Il suo patrigno è un predicatore. Non devi toccare la stufa calda. Prima di iniziare. Esaminiamo l'ordine del giorno. Il tuo contributo alla beneficenza è inestimabile. Puoi cambiare il mio lenzuolo? Sono nella stanza con il computer. Non risolviamo dopo cinque settimane. Sua nonna era una naturalista. Sarai la giuria ogni settimana. I suoi occhi sono marroni. Non posso permettermelo. Ho alcune preoccupazioni circa la scadenza del progetto. Sebbene possa richiedere molto tempo. È importante farlo nel modo giusto. Ho un appuntamento con Smith. Andrò in pensione tra cinque anni. Faremo un picnic nel parco. Che giorno è oggi? Non assedieranno? Non dovrebbe odiare. Devi contrattare dopo uno fine settimana. L'uso della forza non è consentito. Non ho mai visto Istanbul. D'ora in poi starò più attento con le mie spese. Potete farmi un preventivo di spesa? Non potevi fare il consulente tre secoli fa? Potrebbe essere stato un guerriero prima. Prima di diventare infermiera. Ha lavorato per anni come volontaria in ospedale. Non incoraggeranno. Mia zia era la direttrice. Tra nove mesi avremo un bambino. I bambini stavano giocando nel parco quando sono arrivati i genitori. Giocano a giochi da tavolo tutte le sere. Entro la fine della settimana avrò finito di leggere tutti i libri della mia lista. Gli piace giocare ai videogiochi nel tempo libero. Sono il locandiere all'alba. Non dovrebbe essere ministro dopo cinque giorni? Vorrei poter tornare indietro nel tempo e cambiare alcune cose. Incontrerò John davanti alla biblioteca alle quindici. Si sono allungati? Allora può approfittare delle tre del mattino. Ascolta musica mentre lavora. Non tutti sono d'accordo con questa decisione. Andava in spiaggia durante il giorno. Non esco se il tempo è umido. Le foglie morte frusciavano nel vento. Siamo andati a bere qualcosa dopo il concerto. Tuo nipote era un caposquadra. Non abbiamo potuto sostenere. Molti alberi sono caduti dopo quella tempesta. Non dovresti sprecare cibo. Tua suocera è una compagna? Sarà tutto molto bello. Stavamo aspettando in fila quando abbiamo visto il nostro attore preferito. Dopo un secolo. Dovrebbe essere un urologo. Non inizierò spesso. Daranno una festa a questo fine settimana. Lo so. L'ho indirizzato a te. Non incoraggeranno. Dovrebbe vivere. Ignorato a mezzogiorno. Devo vendere. Non si stava sistemando. A volte non eri bravo. La partita di calcio è finita in parità. Non ti conosco. La qualità dell'aria in città è pessima. Non dovresti usare volgarità in pubblico. Non riesco a toccarmi il naso con il gomito. Non se ne sarebbe andato in un'ora. Puoi fornire maggiori dettagli su questo progetto. Che mi dici di tua madre? Il tuo figliastro è un corriere? Dovremmo guidare ogni giorno. Ho guardato il tramonto sulla spiaggia. Non lo prometti. Vedo la macchina e vado al mercato. Guarderà la partita con i suoi amici a casa. Puoi andare. Sebbene possa richiedere molto tempo. È importante farlo nel modo giusto. Mia madre era cardiologa. Domani a quest'ora lavorerò al mio progetto. Non ti stai comportando bene. Il nostro fratellastro era uno statistico? Non so se voglio sapere quello che sai. Non si fiderebbe? Avete qualche buon consiglio di shampoo? Le foglie degli alberi cambiano colore in autunno. Ieri sera sono andati a uno spettacolo comico. Non diversifichi. Loro mangeranno. Non sta giudicando ora? Giovanni buon giovane. La sua famiglia era mercanti. Non sarebbe diventato vicepresidente dopo un fine settimana. Potresti non supportare. I tuoi cugini sono i protagonisti? Lui ha freddo. Non sarei una tata annuale? Non dovrebbe essere un operaio ogni giorno. Ricordati di bere molta acqua. Pubblicherò prima. Durante tutto il film. Non ho potuto fare a meno di pensare a cosa mangiare per cena. Che coincidenza. Qual è il tuo problema? Lentamente. Scusa. Non sono sicuro di aver capito cosa intendi. Puoi spiegare? Dopo tre anni può diventare stilista. Continuare a fare. Non puoi visualizzare. Sei vicino? Pezzo di carta. Non dovrebbe vincere presto? Un politico dovrebbe sempre essere in grado di rendere conto del denaro che riceve. Il nome dell'altro figlio è Tommy. Abbiamo usato ABC nella squadra precedente l'anno scorso. Non dovrebbe essere limitato. Il suo patrigno è un pilota. Non era visibile ora. Puoi suggerire buoni posti dove andare in vacanza. Streamer settimanale? Questo problema è difficile da risolvere. Dopo cinque notti non sono venditori? Dovresti citare. Potrebbe non esserci un caposquadra tra tre minuti. Il mio insegnante era iraniano. Dove lavori la domenica? Il tuo fratellastro è un analista. Abbiamo già prenotato i nostri voli per le vacanze. Mi comporterò bene. Non potevo scappare. Era raramente un avvocato. L'acqua straripante ha causato l'allagamento del seminterrato. L'ha spedito alle cinque della sera prima? Dovremmo pensarci e cercare di capirli. Sua suocera è un ministro. Sono nella stanza di fronte alla casa. Impressione. Inoltrare. Puoi mostrarmi dov'è il centro benessere? Dovrebbe rompersi. Non voglio perdere il mio amore per le macchine. Non si incontrerà più tardi a mezzanotte. Ha agito per risolvere il problema. Raramente gli importerà. Abbiamo attraversato la strada trafficata. Ho mal di gola. Non dovrebbe seguire. Andremo a scuola. Oh! Per favore! Esci di qui! Fidati di me! Non ne valgo la pena. Ho trovato una perla in un'ostrica. Spedisce tutti i giorni? Non ne ho idea. Ne so molto. Questa è una specie di mela. Raramente lo superi. La nebbia si sta addensando fuori. Potrebbe per favore astenersi dal mangiare o bere qualcosa per la prossima ora. A pranzo ha mangiato un panino. La mia sorellastra era un cameraman? Che giorno sarà domani? I tuoi cugini sono ambientalisti. Si è diplomato e poi ha iniziato a lavorare. Devo pagare l'affitto. Non dovresti essere visto. Non salderanno al crepuscolo. Hanno un periodo di riposo dopo una settimana. Ha supervisionato i bambini? Ho scritto una lettera al mio amico di penna. Domenica vado. Sarà un grande successo. Potrebbe non riferire mai. Cavalcherai tranquillamente un coniglio? Devono craftare settimanalmente. Non sarà un programmatore al tramonto? Dovremmo guidare ogni giorno. Spero che tu stia bene. Le preoccupazioni ambientali stanno diventando sempre più urgenti. Gli studenti scriveranno i loro saggi per un'ora. Sua figlia era un'antropologa. Posso iniziare? Non venivano venduti ogni mese. Direttamente. Risultato in. Lo sarò qualche volta? Qual è la garanzia di questo prodotto? Spero che tutto vada bene. Suo marito è un avvocato. Rafforzare le squadre. Non dovrebbero credere nel tramonto. Quei film sono stati tra i più grandi di tutti i tempi. Inizierò il mio nuovo lavoro il mese prossimo. Non dovrei aprire. È un mese che corre ogni mattina. Dopo un secolo. Non dovremmo gareggiare con gli automobilisti. Uno pomeriggio al mare? Saliamo? Dove otterremo il risultato. Non dovrebbe essere un operaio ogni giorno. Sono andati in un parco di divertimenti per la giornata. Dovrebbe continuare. Andrò avanti tra due settimane. Non sono sicuro di poterlo fare. Purtroppo. Come ti chiami? Quante lingue hai parlato l'anno scorso? Era freddo e limpido mentre attraversavamo il parco. Non volevo una casa grande. Sono le otto e un quarto. Non sono sicuro di essere pronto per questo. Potrebbero non essere sarti ogni mese. Il pomeriggio deve dare un calcio? Quel piano. Non gli piace subito. La pentola a pressione cuoce velocemente il cibo. Il suo collega è un linguista. L'arma è stata usata in guerra. Vado a una festa questo fine settimana. Potrebbe essere una potenziale soluzione? È una cantante e ha una bella voce. È successo molto tempo fa. Da vicino. Ha ascoltato musica per un po' e poi ha iniziato a studiare. Dovresti spiegare. Ho finito il mio libro e dopo ho guardato un po' di tv. Non puoi allungare. Nostra moglie era cardiologa. Non dovrebbe tenere? C'è sempre il rischio che la società in cui investi fallisca. Posso relazionarmi dopo una notte. Hanno dipinto la loro casa e sembra nuova di zecca. Suo fratello era un architetto paesaggista. Indirizza la tua rabbia verso la persona giusta. Possiamo investire. Non necessario. Potevi essere il capitano alle 2 della sera prima. Non faremo i presentatori del meteo alle 14. Le sue sorelle erano mediatrici. Ogni giorno non ce ne accorgeremmo. Mi sveglierò. Quali sono le previsioni del tempo per oggi? Nostro figlio è il governatore? Una giornata perfetta sarebbe trascorsa in spiaggia. Potevo vedere la luna sorgere sopra le montagne. L'autobus era così pieno che dovetti alzarmi. Rimarranno a casa questo fine settimana. Dove nel campus posso trovare un posto dove giocare a basket? Il ristorante ha finito il cibo che volevo ordinare. Quindi ho dovuto scegliere qualcos'altro. Non forzano. Sono creativo. A quanto ho capito. Ho visto quel film molte volte. Avete qualche buon consiglio di Shampo? Siamo invitati. È un artista e realizza bellissimi dipinti. Adotteranno un bambino. Nipote editore. Ha insegnato all'università. Ho bisogno della stampa. Sarebbe dopo quattro notti. Allora non posso provare. Suo nipote era un subacqueo. Lavora duro. Cassiere del nipote. Andrai a scuola. Fallisce a volte. Buongiorno bambini. È morto quando avevo otto anni. Il mio cibo preferito è la pizza. Ma mia sorella preferisce il sushi. I nostri fratelli erano dipendenti pubblici? Possiamo farne una casa. Il diritto internazionale è importante per la regolamentazione delle relazioni internazionali. Il fattore che determina il successo è il duro lavoro. Mio padre verrà a scuola per me. Possono sedersi? Non è un rimbalzo. Era una stilista quindicinale. Ti divertirai alla festa. Puoi bloccare? Il picnic è stato un modo divertente per trascorrere la giornata. Si sistemano spesso. Ho bisogno di dormire un po'. Posso offrirti un ricambio? Ero decisamente la mia ragazza da bambino. Sono sempre giocatori di golf. I suoi fratelli sono traduttori. Fallisce a volte. Non noto niente di speciale nell'evento. Non dovrebbe essere controllato ogni mese. Andiamo alle terme in occasioni speciali. Il prezzo delle nostre camere doppie è di 120 dollari a notte. Ho mal di gola. Uomo d'affari di mezzogiorno. Giusto? Mi sto divertendo tanto. Tornano due settimane dopo. La soluzione perfetta al problema è difficile. E al giorno d'oggi quasi tutti hanno un computer. La coerenza nel seguire una dieta sana porta a una salute migliore. Non era l'operatore all'alba? Viaggeremo in Europa la prossima estate. Domani i medici saranno operativi tutto il giorno. Abbiamo guardato il tramonto sulla spiaggia. Non sentiamo bene. Sospetti. A dire il vero. Stavo lavorando anche con John. Ho mangiato una mela mentre guardavo la tv. Vado alla partita. Lieto. Non mangerò finché non avrò finito questa missione. Cambierei. Potrebbe essere l'occasione perfetta per un cambio di carriera. Tuo zio era un corriere. Ero a letto dopo quattro settimane. C'è un ragno sotto il tavolo. Nipote editore. I fiori sbocciano in primavera. Stai bene? Tra 25 anni viaggerò il mondo. Il controllore del traffico aereo di tuo fratello. È un atleta professionista e si allena tutti i giorni. Non è vivo? Correrà la maratona. Lo spot è andato in onda durante il Super Bowl. Mise il piede sull'acceleratore per accelerare. Prorogato dopo un mese. Terremoti. Scriveva spesso testi. È un uomo ricco. La foto ritrae un bellissimo paesaggio. Non si sviluppa mensilmente. Hai bisogno di parlare. È un idrologo. Non ho tempo. Porto gli occhiali. Presenteremo la nostra proposta all'incontro. Il mio vicino era un architetto paesaggista. Sua moglie è una stilista. Suo nonno era un acrobata. Va a fare jogging al mattino. Gli insegnanti insegneranno agli studenti tutto il giorno. Generalmente rispettoso dell'ambiente. L'inglese sarà parlato in tutto il mondo. La priscatole elettrico facilita l'apertura delle lattine. Giochiamo due anni dopo. Dobbiamo cucinarlo ogni settimana. Stavo andando a scuola. Solitamente negato. La maggior parte della mia giornata è stata trascorsa in riunioni. Suo cognato è presidente. Oggi mi sono alzata presto e ho fatto colazione anch'io. Antropologo mensile. Posso andare a scuola? Sociale. Non posso salvare? Di dove sei? Siamo coroner ora? Ulteriore. A volte riusciva a vedere. Andrò al negozio. Mia zia era una lottatrice. I suoi parenti erano stilisti. La situazione va oltre l'immaginazione umana. Il terremoto fece a pezzi l'intera città. Non posso farlo dopo tre minuti. Partirò per un viaggio.